volantino si ringrazia la gentile clientela per la visione di questo video metti mi piace per sostenere il canale il volantino è di tutti e fresco market le offerte sono valide dal 29 luglio al 9 agosto 2021 alla fine del video trovi i punti di vendita aderenti alle offerte condividi subito il video con chi commetteva a fare la spesa in questi punti vendita si ricorda inoltre alla gentile clientela che i video di volantino nuovo sono perfettamente ottimizzati con il tuo smartphone non occorre quindi né modificare la velocità di riproduzione né ruotare lo schermo sceglili e guardali ciao 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 iscriviti subito e con la campanella sarai sempre aggiornato sui nuovi volantini